Le buone pratiche di protezione civile scendono in piazza assieme ai protagonisti delle azioni di salvataggio, cioè gli uomini della protezione civile. Sabato 14 ottobre a Pescara in piazza Garibaldi con percorso ciclopedonale lungo il quale si presenterà ai cittadini l'evento di esondazione del fiume Pescara, a Teramo in piazza Martiri della Libertà con un percorso di trekking urbano per una linea del tempo itinerante, a Chieti con focus sul piano di emergenza comunale e sulla microzonazione sismica e all'Aquila, presso le mura del Castello Cinquecentesco, 300 volontari saranno impegnati per la settima edizione di Io non rischio al fine di sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico di alluvione e maremoto. Il sistema di protezione civile per esile che sia, almeno così come è diventato negli ultimi anni, non può prescindere da una conoscenza dettagliata dei rischi e dei modi comportamentali da usare sia da parte delle istituzioni e anche e soprattutto da parte dei cittadini, ecco perché una sempre maggiore acquisizione della consapevolezza del rischio è un tema fondamentale e una condizione se ne qua non il sistema possa davvero funzionare. L'evento, come ogni anno, cade alla vigilia della stagione invernale e dopo quanto accaduto lo scorso anno in Abruzzo, resta alta l'attenzione soprattutto sul fronte dei fondi per i comuni e sulla carta delle valanghe. Il ristoro dei danni ai comuni ha subito dei ritardi e su questo ci sarà un incontro tra D'Alfonso, il capo della protezione civile nazionale. Per quanto riguarda la prevenzione del rischio valanghe, invece, Mazzocca assicura che presto il documento sarà pronto. Delle notizie assunte dagli uffici e dal soggetto aggregatore è una questione di giorni l'affidamento temporaneo all'aggruppamento sui giorni che hanno risposto all'avviso pubblico che risulta giudicataria e successivamente si faranno le procedure di rito per la giudicazione definitiva e la redazione conseguenziale del piano valanghe.